Presidente D'Aurelio, avete riportato a nuova vita il caso di dire il Golf Club Adriatico di Brecerola? Ci sto provando, mi auguro soltanto di riuscirci per il bene della comunità che in ogni modo potrà godere di questo splendido paesaggio e di questa possibilità di convivenza alla quale è destinata. Golf Club, ma non solo golf, in questo centro sportivo polivalente c'è una piscina, c'è un centro benessere e ci sarà tanto altro? Certamente sì, cercherò nella logica di quello che è lo sfruttamento di quelle che sono le possibilità della convivenza, creare un'area tennistica, eventualmente pesca sportiva, poi tutti quelli che sono gli sport che potrebbero essere interessati a spazi e a vivere in libertà, anche passeggiate. E soprattutto sommato chi vuole può venire a fare la passeggiata, tutto il percorso che sarà appositamente destinato. Tornando al Golf, avete qui a Brecerola uno dei campi più grandi d'Europa? No, quello più grande d'Europa è il putting green, cioè quello dove in ogni modo è l'area di centrare la buca vera, cioè in poche parole, putting green di 1600 metri quadri, non è che ce ne sono così grandi in Europa. Per quanto riguarda i prossimi obiettivi, i prossimi progetti, insomma andrete avanti, c'è un consiglio di amministrazione, diciamo questo è solo l'inizio? Beh, l'inizio per arrivare bisogna partire, siamo lungo il percorso, appena iniziato mi auguro solamente di incontrare meno difficoltà possibile e portare avanti questo progetto.